Desidero ringraziare veramente con cuore commosso tutti coloro che mi hanno fatto per venire gli auguri per il mio compleanno. Voi siete la grande famiglia nata da Rosario, quindi una famiglia che l'ha convocata la Madonna. Vi chiedo soltanto una priera perché gli anni che passano sono anni spesi totalmente per il Signore. Aiutatemi dalla vostra priera. Da parte mia io vi considero parte della mia famiglia, la mia famiglia mariana, la mia famiglia convocata da Maria. Nel nome di Maria vi benedico, vi proteggo e invoco su di voi ogni grazia del Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.